Capire a che punto siamo arrivati in termini molto semplici. Innanzitutto, che cos'è la valuta, la moneta? Cercherò di esprimervi in termini molto semplici, cosa applicabili all'Italia ai tempi della lira, cercando poi di aggiornare il concetto. Questo vale per l'Italia, gli Stati Uniti e qualunque paese. Ecco, questo è il mio biglietto da visita. Ora, ne volete comprare uno per 20 euro? Ecco, è un pezzetto di card e bus. C'è qualcuno che vuole rimanere qui a pulire i pavimenti, vi pago un euro l'ora? Allora, parliamo esattamente di disoccupazione, perché in ultima fase siamo qui per parlare di occupazione, che è quello che ci interessa, perché noi ci occupiamo di disoccupazione. Disoccupazione, la gente cerca un lavoro retribuito e non lo trova. Per qualche motivo, gli italiani vogliono un lavoro pagato in euro. Negli Stati Uniti invece si cerca un lavoro pagato in dollari e in Giappone un lavoro pagato in yen. Nessuno vuole un lavoro pagato con questi biglietti da visita, o mi sbaglio. Per cui, i miei biglietti da visita, tecnicamente non c'è disoccupazione, perché a nessuno interessa un lavoro che venga pagato con questi biglietti. potete essere disoccupati in euro, allora vi interessa un posto di lavoro in euro, gli americani vogliono i dollari, ma nessuno è disoccupato rispetto all'acquisizione di questi biglietti. Per cui, come trasformare questi biglietti in denaro? È questo che vogliamo vedere. Questo di per sé non ha valore. Ma adesso voglio raccontarvi un'altra cosa. C'è solamente un'uscita da questa sala. Adesso non avete paura, vi racconto solo un aneddoto. C'è solo una porta per uscire da questa sala. A quest'uscita c'è un uomo armato e lavora per me. E non potete uscire, a meno che non abbiate uno di questi biglietti. improvvisamente siete tutti disoccupati. Siete tutti alla disperata ricerca di un lavoro, di un qualche modo per procurarvi questo biglietto per poter uscirvene da qua. Questo uomo armato, diciamo che è l'esattore delle tasse di cui parlava il professor Fostater. Adesso vi rendete conto di che cos'è la disoccupazione. avete bisogno di questo biglietto per poter uscire da qui. È l'esattore, quindi trasforma una cosa che non ha valore in denaro. L'obiettivo della tassazione, qual è l'obiettivo? Non è tanto per spendere i biglietti da visita, perché io me ne posso procurare quanti voglio. L'obiettivo della fiscalità è che voi abbiate bisogno dei miei biglietti da visita, così che io li posso spendere per farvi fare qualcosa. Quindi l'obiettivo della tassazione è di creare disoccupazione, creare una popolazione che lavori per procurarsi i miei biglietti da visita. Io sono il governo e io voglio avere persone che vadano nell'esercito, voglio gli insegnanti nelle scuole, eccetera, eccetera. E come farlo? Crea una tassa. La tassa rende tutti direttamente o indirettamente disoccupati, perché adesso tutti avevate bisogno della lira in passato, per avere i soldi per pagare le tasse, mentre invece adesso il governo può impiegare chi vuole per mandarli nell'esercito, nell'apparato giuridico, nella magistratura, nelle scuole, eccetera, perché può spendere questi biglietti da visita per darvi un lavoro, per assumermi. Ecco, diciamo, io sono il governo degli Stati Uniti, ho bisogno di 10 milioni di persone che facciano tutti i lavori del governo, quindi metto una tassa per creare disoccupazione. A questo punto assumo tutte le persone che ho reso disoccupate in questo modo. E va benissimo. Diciamo che io non riesco ad assumere tutti quanti quelli che ho reso disoccupati, alcuni rimangono disoccupati, ma perché mai farlo? Non ha alcun senso. Cerchiamo di ritornare a biglietti da visita. Ci sono 200 persone qui, ecco, vi dico che avete bisogno di un unico biglietto per poter uscire da qua, però do solamente lavoro a 150 persone, quindi 150 biglietti, quindi altri 50 sono disoccupati e devono cercarselo il lavoro e non lo possono trovare fino a che non gli do uno di questi biglietti. Perché fare questo? Se io non volessi che lavorassero 200 persone, io potrei dire allora do solo due biglietti a tutti quelli che lavorano e che mi aiutano a pulire, allora ci sarebbero abbastanza biglietti. Oppure potrei dire potrei fare in modo di spendere abbastanza biglietti per assumere tutti quelli che ho reso disoccupati. Ecco, forse così l'ho spiegato più chiaramente. Non ne spenderei di meno, posso abbassare le tasse, posso dire che solamente la metà di voi debbono pagare le tasse e quindi solo 100. Oppure, non so, posso cambiare le cose come voglio, ma comunque non posso disoccupare più persone di quante non voglio assumere. Ed è per questo che io chiamo disoccupazione un crimine contro l'umanità. La disoccupazione è un crimine contro l'umanità. cioè il governo... Applausi 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 Applausi